Sì, sta a tre e vai, sinistra a tre e vai, 200, per la cartella sinistra a quattro, sta a interno, 30, e sul dosso, sta a sinistro, per subito destra a tre, subito destra a tre, per alle gomme, diventa a tre interno, diventa a tre interno, 50, tossata, per ritardo al palone, sinistra a tre e lunga, 50 metri, sinistra a tre e lunga, 50, per subito, dosso, e 30, e destra a quattro corta, a destra a quattro corta, poi, 150, per sinistra a tre e lunga, sta a interno, lunga 30 metri, e dosso, e 50, e subito destra a quattro, sta a interno, per cento, destra a quattro interno, cento, e al rosso, tornate destro, al rosso, tornate destro, tornate sinistro no, e tornate destra no, per subito, sinistra a due, gira a 20 metri, subito, sinistra a due, gira a 20, e 30, tornate sinistro, alle zebre, tornate destro no, destra no, cento a valla, per albili, sinistra a tre e lunga, 30 metri, sta a interno, e 50 tra gli alberi, e al giallo, sinistra a quattro interno, quattro interno, e 50, tossata, albili, destra a tre, per subito, attenzione, sinistra a due, gira a poco, subito, sinistra a due, gira a poco, e 30 addossati, per affine lei, tornate destro, tornate destro, cento sinistri, per al rosso destra a tre, in sinistra a cinque, va a interno, sinistra a cinque, va a interno, 200, in moltissima attenzione al giallo, tornate sinistro, stai sinistro, occhio buche destra, 100, apri, albili, destra a quattro, per 20, e tornate destro no, destra a quattro, vai 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 vai, 20, tornate destro no, destra no, in subito sinistra a due, interno, 20 metri, e 100 destri, in sinistra a quattro, 100 destri, in sinistra a quattro, in destra a tre, per 50, e 50 ancora, diventa il cartello sinistra a tre, per destra a due, lunga 30 metri, destra a due, lunga 30, la destra a due, lunga 30, per 30 sconnesso, destra a due, lunga 30, 30 sconnesso, 30 sconnesso, in sinistra a tre, corta interna, sinistra a tre, corta interna, 100, stai sinistro, per al cartello, destra a tre, albili, stai sinistro per al cartello, destra a tre, albili, un'attenzione tornate sinistro, un'attenzione tornate sinistro, leva. 30, destra a tre, a cipressi, tornate, tornate destro, tornate destro, 20, e stai largo, tornate sinistro, hai visto chi era? No, il nero di qual di Cecina, vai, 200, per subito al rosso, sinistra a due, sinistra a due, per destra a tre, vai, sinistra a due, per destra a tre, stop è fatto, no, sto fermando lo stop loro, bravo, bravo, ci vogliono le stampo tu. Grazie a tutti.